Ciao a tutti, io sono Ol, questo è Debrefans Bug. Oggi abbiamo un'intervista con Luca Erbetta, che oltre a essere un ottimo illustratore e aver collaborato in produzioni cinematografiche di tutto rispetto, ha animato, assieme ad altri animatori, Valiant Hearts, il titolo di Ubisoft, che stiamo giocando in questi giorni. Vi lascio quindi all'intervista e vi ricordo che potete lasciare i vostri commenti sul canale YouTube, sulla pagina del gruppo Facebook, sulla pagina del gruppo Google+, e sul blog. Cercate da qualche parte Debrefans Bug e non potete sbagliare. Ti ringrazio molto per l'intervista. Io gestisco, assieme a tanta altra gente, un canale YouTube, è un gruppo su Facebook, su Google+, quindi comunque una community, che vuole fingere di essere un club del libro, ma con i videogiochi come target. Quindi essenzialmente noi giochiamo, poi ci scambiamo le nostre opinioni e ci siamo inventati la moda del gioco del mese per dare un gioco da giocare a tutti gli iscritti e per poterne parlare poi il mese successivo e realizzare un podcast, quindi qualcosa da mettere su YouTube solo audio e su iTunes e altri formati. Allora sono filmato, aspetta. No, non sei filmato. Ah, meno male. Tranquillo. Il gioco di questo mese era Valiant Hearts, che abbiamo giocato in tantissimi. e quindi mi è venuta l'idea di spulciare un po' tra la crew del gioco. Ho beccato un nome italiano, ho detto aspetta che io ci provo. Poi inizierei dalle domande di base, da carta d'identità. Chi sei? Dunque, io sono nato a Roma. A Roma e... Vuoi l'età? 45 anni, vecchia. Ho fatto il liceo artistico a Roma e poi sono partito in Francia. Io ho continuato degli studi... Cioè, avevo fatto pure una scuola privata all'epoca che si chiamava l'Istituto Europeo. Però ho tradotto a metà e poi sono andato in Francia e ho continuato degli studi artistici in Francia, a Strasburgo. Una scuola che si chiama Ecole des Ardeguatives, dove ho fatto illustrazione. Sei da parecchio tempo quindi in Francia? Eh, sì. Cioè, sono partito perché avevo vent'anni. E così, niente, ho fatto questa scuola di illustrazione e poi ho cominciato a lavorare qua in Francia. Soprattutto nei cartoni animati. A me interessava l'animazione a base. E quindi ho fatto prima un po' di animazione al computer quando proprio il computer non esisteva. Cioè, c'eravamo il computer di pietra. E quindi eravamo molto pochi. È una delle prime serie televisive che erano fatte qua in Francia che erano a computer, che si chiamava Insectors. Adesso non se lo ricordo a più nessuno, fortunatamente. E se non che, finito quello, mi sono rimesso all'animazione tradizionale, cioè al disegno, che è quello che, diciamo, che è la prima passione mia. E quindi ho fatto... Ho lavorato un po' facendo qualche serie televisiva a Parigi. Mi sono spostato a Parigi. e poi ho lavorato per uno studio di cartoni animati per la pubblicità. Ho visto alcuni sketch sul blog? No, queste sono cose più recenti quelle del blog. Questa era una cosa molto più antica, insomma. Sono quasi... almeno, diciamo, una quindicina di anni fa. Quindi è parecchio. E questo, la cosa buona è che questo studio, che era uno studio abbastanza piccolo a Parigi, era uno dei blog che continuava a fare dell'animazione direttamente sul posto, perché già all'epoca tutti quanti si subappaltavano un po' dappertutto. Stavano diverse ondate. La prima ondata mi pare fosse nell'Europa dell'Est. Poi l'hanno mandata in Asia, in India, in Cina, insomma, in Corea, dappertutto. Dove meno costava, più andato. Come succede anche oggi, poi. Sì, sì, sì. Infatti, non hanno... Per tutto. Sono sempre gli stessi problemi. Sì, sì. E quindi, niente, la cosa buona è che appunto facevamo film pubblicitari e facevamo tutto a Parigi. E quindi mi ha dato l'occasione di imparare un po' l'animazione, perché in realtà io ho studiato l'illustrazione, ma l'animazione che mi interessava l'avevo fatta così, per conto mio, insomma. E là c'era gente molto preparata, molto brava. Gente che usciva dalla Disney in Parigi. Allora c'era uno studio di lungometraggi a Parigi. Prima che chiudesse, insomma. E quindi così, dopo... Tra una cosa e un'altra sono rimasto là qualche annetto, uno, due anni, due o tre anni. E poi alcuni dello studio sono partiti negli Stati Uniti, alla DreamWorks, e quindi ho sottoposto il mio book, anch'io. E quindi così, poi alla fine mi hanno proposto un visto, e quindi sono andato là. E ho fatto qualche film là, e alla fine, tra una cosa e l'altra, l'idea era più o meno di fare un'esperienza, e vedere un po' come funzionano gli studi americani, di castori animati e di lungometraggi. Perché i lungometraggi non li conoscevo. Ho fatto... Sempre lavorato in cose molto piccole, in produzioni brevi, di qualche settimana, mesi al massimo, insomma. E così volevo vedere un po' che cosa fosse un grande studio di qualità. E quindi sono arrivato là, che avevano finito il Prince of Egypt, il principe d'Egitto, e abbiamo cominciato Eldorado, per cui ho fatto un po' di esperienze su Eldorado, e poi, tra una cosa e un'altra, le cose sono un po' prolungate, nel senso che io ero partito così, con l'idea di stare là per un film o due, e alla fine siamo rimasti sette, otto anni. Ah, quindi piuttosto lungo come esperienza. Sì, sì. Interessante. Senza accorgercene, insomma. Sono volato. Sì. Poi la DreamWorks era all'inizio, perché... Sì, sì, ti dico, era il secondo film che facevano, e in pratica era ancora disegnato, poi abbiamo fatto, dopo Eldorado, abbiamo fatto Sinbad, no, c'era prima Spirit, il cavallo, e poi Sinbad. E quello è stato l'ultimo film disegnato. È stato proprio la... diciamo, quello che ha fatto finire tutto il dipartimento. Ma sei passato al 3D o comunque al digitale in quel momento? Sì, all'epoca c'era Pixar che faceva successo dopo successo con i tuoi storie e compagnia, per cui alla DreamWorks hanno pensato che, insomma, era il momento di cambiare, che il problema era la tecnica, secondo loro. Per cui ci hanno proposto, molto gentilmente, tra l'altro, di formarci tutti al computer. Per cui io già un po' conoscevo, anche se non era lo stesso programma, ma insomma... E quindi, niente, ci hanno fatto questa formazione di qualche mese, due o tre mesi, e poi abbiamo cominciato il film, questo che si chiama Shack's Tale. Ah, sì, è di squali. Sì, e quindi quello è stato il primo film che abbiamo fatto là al computer, se non che dopo di quello io sono passato alla Sony, che stavano aprendo un dipartimento animazione, e per fare un film che si chiamava Open Season. Boogie Elliot, quello con l'orso. Bravo, sì. Ho studiato il manuale di Maya su quello. Lo ricordo. Quello è il film, sinceramente, il film più bello su cui ho lavorato. A me è piaciuto molto. Anche se, per diversi aspetti, anche Spirit è stata una bellissima esperienza, però il film in se stesso, veramente Boogie Elliot, è quello che trovo il più carino, insomma. Comunque. Era simpatico, veramente. E quindi, se non che, dopo questo film, dopo questo film siamo rientrati, nel senso che in quel periodo alla Sony avevano preso molta gente, perché pensavano di averci tanti film da fare contemporaneamente. E se non che, la realtà è stata diversa, nel senso che a un certo punto molti film sono cappottati, per cui si sono trovati con troppa gente sulle braccia e quindi hanno cominciato un po' a licenziare. E quindi io, poi alla fine, ho cercato un po' a destra e a sinistra, ma comunque avevamo dei visti temporanei, per cui poi avevamo figli, cominciavano a crescere, insomma, due figli, e si poneva il problema di vedere se rimanere in America oppure tornare. Poi anche mia moglie aveva voglia di tornare, per cui siamo tornati. In Francia. E quindi così, se non che, poi siamo tornando in Francia, ho fatto, sono tornato un po' a lavorare a Parigi, facendo un po' sempre pubblicità, videoclip, o cose così, in animazione sempre al computer. E poi ho fatto una breve parentesi nell'insegnamento, in scuole private, insegnando animazione, e disegno, il che ci ha portato qua, a scendere nel sud della Francia, che è qui a Montpellier, che è sinceramente per noi la soluzione migliore, nel senso che a livello del clima è molto mediterraneo, più simile al clima italiano, che è romano. Poi sai, avendo passato 7-8 anni a Los Angeles, che sono stati 7-8 anni di estate totale, solo al sole, a Parigi è dura insomma, perché è molto grigio, c'è molto, fa freddo, piove, eccetera, per cui, diciamo anche poi, è una grossa città, molto frenetica, molto un po' nevrotica, per cui, sinceramente, anche per i figli, eccetera, pensavamo, più o meno, che, scendere un po' al sud, sarebbe stata una buona soluzione, e quindi ho fatto un po' e poi mi sono un po' scocciato, per cui ho ricominciato a fare illustrazione, animazione, un po' a destra e a sinistra, un po' a distanza, e poi, qua a Montpellier c'è questo studio, grande studio di videogiochi, che per me è stata una prima esperienza, nel senso che, l'industria dei videogiochi non la conoscevo per niente, anche se, diciamo, la vedo da lontano, che sono un giocatore molto, saltuario, insomma, però, insomma, la parte, diciamo, grafica, comunque, fa parte dei miei interessi, qui, in quella sfera, sì, 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 anche poi ho molti amici che lavorano, direttamente in questo settore, e quindi così, c'è stata questa opportunità, prima, mi hanno contattato per fare una prova, su un altro progetto, che poi, alla fine, non è stato, non è andato avanti, e, se no che, poi, se, è venuta fuori questa, questa cosa di, valiant art, che, sinceramente, a me piaceva molto, nel senso che, dal punto di vista grafico, mi interessava molto, e, soprattutto, perché la direzione artistica, di, Paul, Paul Thumler, era molto, simile a, un comics, a un fumetto, infatti, è, è molto fumettoso, sì, decisamente, infatti, si presenta bene, anche su palmari, su tablet, perché, sì, 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 è pulito, adesso, io non ho mai visto, su, sui computer, questo tipo pc, eccetera, però, sinceramente, penso che, sia un gioco più adatto, al tablet, che l'altro, no, ma ti dirò, rende decisamente bene, anche su pc, sì, perché, io l'ho giocato, su un, 24 pollici, 16 noni, e, e fa la sua porca figura, no, è proprio bello, perché, c'è tanto dettaglio, in ogni singola immagine, quindi, sì, vedere tutto più grande, non perdi di qualità, acquisti solamente, profondità dei dettagli, numerosità dei dettagli, sì, sì, infatti, per me è stata veramente, una, diciamo, attirante, nel senso che permetteva, una transizione, in, diciamo, tranquilla, diciamo, una transizione, nel gioco, nel videogioco, in un angolo, che mi interessava, particolarmente, insomma, sì, dal punto di vista creativo, eccetera, è stata proprio, un'esperienza buona, insomma. E, come gli altri titoli, della Ubisoft, quel gruppo lì, perché, non so se hai avuto modo, di giocare, o vedere Child of Light, anche quello, molto. Sì, l'ho visto pure da lontano, però, non l'ho giocato direttamente, però, ho visto, sì, c'è questa, questa specie di sensibilità, non so se sia una sensibilità, o se sia un, una prova, che stanno facendo, per raggiungere, un mercato, che è un po' differente, dal mercato, dei grossi, titoli. Assassin's Creed, eccetera. Sì. Diciamo che, per l'impatto del progetto, quindi, comunque, un team decisamente più piccolo, rispetto ai grandi Ubisoft. Sì, il budget è ridicolo, rispetto a questo. Premi, ha vinto recentemente, due premi. da questo punto di vista, c'è stata una certa, riconoscenza internazionale, con premi, diciamo che il settore, l'ha accolto, abbastanza bene. Adesso, non so se, economicamente, sia, un titolo, che sia, molto, redditizio, oppure no. Questo, non te lo so dire. Però, in ogni caso, è un titolo, diciamo, prestigioso. Precisamente. Adesso, bisogna vedere, credo che, l'ultima cosa che ho visto, è che era nominato, anche in un titolo, in un premio, che si chiama, gli Annie Award, che sono, in pratica, gli Oscar dell'animazione, hollywoodiana, insomma. Erano, e c'erano tre titoli, nel, nel settore dei videogiochi, c'era Child of Light, Valiant Heart, e l'altro, non mi ricordo più, che era un grosso titolo. E vabbè, insomma, così. Quindi, tutto sommato, sono stato contento, di esplorare un po', il settore, e di vedere un po', come funziona, perché, ti dico, io ero completamente ignaro, rispetto, al, al mondo di videogiochi. e, e poi, mi ha permesso un po', di giocare. Che non è male. Sì, sì, però, mi sono reso conto, mi sono reso conto, che sono invecchiato, nel senso che, mi ci vuole una vita, per finire questi giochi, specialmente, questi, di puzzle, e cose varie. Sì, poi, con i tempi, che abbiamo, adesso, tu li riesci a fare facilmente, ma, a livello della giocabilità, di Variant Heart, l'ho trovato, l'ho trovato comodo. C'è avuto difficoltà? All'inizio, ho avuto un po', di difficoltà, nel prendere, diciamo, un po', di padronanza, dei comandi, o delle azioni. Dopo, giocandolo, senza grosse interruzioni, quindi, l'ho, l'ho fatto un po' più facilmente. No, mi sono trovato bene, però, ha quella difficoltà accessibile, che, non fa mai male. Cioè, non è, non ci sono punti, bloccanti, completamente bloccanti. A volte, devi pensarci un po' di più, altre volte, puoi andare tranquillo. I minigiochi, per esempio, sono più legati a una, alla capacità di, muovere, l'automobile, il carro, eccetera, quindi lì, è tutta manualità. Altri punti, i puzzle, sono, un po' più tosti. Eh sì, sì, io sui padroni, bloccavo. C'avevo il vantaggio di averci qualcuno vicino, sempre a chi domandare, tipo lo sviluppatore. Eh sì, sì. No, però, secondo me, hanno ottenuto un buon livello, un buon compromesso. Sì, beh, io ti dico, lo studio di Montpellier, da quello che ho capito io, è uno studio, tra i vari studi Ubisoft, è uno studio che è considerato uno studio creativo, nel senso che ci hanno diverse idee, diverse voglie di fare videogiochi differenti, diciamo. E per questo ci hanno una, diciamo, un posto a parte rispetto alla costellazione dei vari Ubisoft. Sì, si sono creati questa nicchia di videogiochi. Sì, Adesso bisogna vedere come va avanti, nel senso che il mercato, da quello che mi sembra a me, come, ti dico, come spettatore abbastanza ignaro, sta evolvendo rapidamente. Sì. Per cui, non so se questi grandi distributori non subiscano il colpo oppure no. So, secondo me, la gente sta riscoprendo il fenomeno indie, che comunque porta il gioco più su un aspetto di team piccoli, ma un aspetto narrativo. Quindi la gente comincia a cercare qualcosa di più del semplice Muoviti e Spara, no? Dei titoli grandi Ubisoft, che comunque venderanno sempre di più perché comunque raggiungono un mercato più ampio. Però c'è una grande, un gran sottobosco, almeno europeo, adesso non so com'è la situazione fuori, che si sta affezionando. Ci sono anche degli eventi nuovi che prima non esistevano, nuovi premi dedicati solo al mondo indie, tantissimi portali. Ma io penso che la cosa sia lo stesso negli Stati Uniti, mi sembra. e mi sembra anche che questo fenomeno poi stia aprendo degli spazi ad un pubblico nuovo per il gioco. Esatto. Non sono i gamers quelli accaniti, insomma, puri e duri. vivono qua. Per cui, sì, è tutto un mondo un po' in evoluzione, in ebollizione, per cui bisogna vedere come quello che succederà. Comunque, in ogni caso, penso che sia abbastanza positivo. Dal punto di vista, diciamo, egoistico, il mio, mi sembra che il mercato del videogioco sia un mercato molto più dinamico attualmente che quello dell'animazione, per esempio. Anche, non so, diciamo che almeno fino adesso dal punto di vista dei videogiochi c'è un po' meno questa tendenza a mandare a destra a sinistra. Sì, ci può essere un po' con le scene cinematiche, però, diciamo, mi sembra, poi ti dico, io non è che lo conosca benissimo, per cui non è che sia il più qualificato per parlarne, però mi sembra che ci sia diciamo più possibilità di produrre un progetto completamente dall'inizio alla fine che non un dei progetti di animazioni in cui divisi, spezzati. Sì, anche poi diciamo che i budget adesso come adesso sono comparabili, anzi, a volte i budget dei videogiochi sono anche più generosi che quelli dei film. GTA 5 ha dato una dimostrazione, ha incassato anche più di un film o di ibudiano o di ibudiano o di ibudiano. Sì, c'è. Però, sì, no, il mercato è comparabile. Però ti dico, dal punto di vista nostro di quelli che lavorano diciamo in questo settore è chiaro che è abbastanza motivante perché vediamo che ci sta una certa dinamica insomma. E anche poi in Italia purtroppo il mondo professionale lo conosco poco. Cioè, ho lavorato un po' in Italia ma pochissimo e soprattutto in pubblicità. per cui non so esattamente adesso come siano le cose. Dal punto di vista del videogioco si stanno creando stanno nascendo dei team. Sì, sono molto molto acerbi. Sono pochi e sono piccoli. Probabilmente molti sono nati come team di sviluppatori indie, sono rimasti indie, magari hanno aperto la società ma sono piccoli però si sta svegliando qualcosa anche qui fortuna. E loro chiamano dei distributori ufficiali oppure distribuiscono tramite Google? Sì, ho visto pochi indie ultimamente distribuire retail. Ubisoft chiaramente ha alle spalle una struttura che può permettere anche questo. In Italia ho visto tantissimo almeno quelli che conosco hanno titoli in uscita o già usciti digitali su Steam. Steam ha dato una mano grandissima al mercato indie perché è effettivamente semplice pubblicare qualcosa su Steam salvo ovviamente nulla ostra del green light. Il problema però è che c'è talmente tanta offerta che poi alla fine per sopravvivere è difficile. Diventa difficile infatti i team rimangono piccoli. Ritorniamo al gioco. Tu che ruolo hai avuto nel progetto? Io sono arrivato diciamo che la produzione era in corso nel senso che credo che la produzione totale sia stata forse un paio d'anni mi sembra e io sono arrivato diciamo ti parlo due anni di produzione completa insomma per cui dai primi disegni dalle prime idee fino all'alializzazione del videogioco io sono arrivato praticamente a metà dell'animazione diciamo c'erano due animatori che hanno cominciato il progetto che hanno lavorato fin dall'inizio perché proprio l'idea di base era quella di fare un team molto ristretto e loro speravano effettivamente di poter gestire la cosa a due poi invece diciamo che le ambizioni sono diventate sempre più grandi anche perché poi essendo questo un progetto sulla prima guerra mondiale il materiale storico era talmente vasto che c'era possibilità effettivamente di fare molto di più adesso non so esattamente c'era dal punto di vista della sceneggiatura delle idee ce ne erano molte per cui diciamo che il progetto da un'idea così di base è cominciato a lievitare sempre di più fino a che sono stati obbligati a cercare un po' più gente per spessire un po' i ragni e poi anche a limitare le ambizioni perché diventava una cosa proprio sì e soprattutto perché l'idea principale era di cercare di far uscire il gioco in concomitanza con in concomitanza con la memoria delle commemorazioni della prima guerra mondiale sfruttare il momento sì c'era questo limite insomma di tempo che non si poteva oltrepassare e quindi io sono arrivato così in corso se non che ho lavorato diciamo almeno cinque sei mesi e nel frattempo poi c'è stato è stato aggiunto ancora un quarto animatore e così abbiamo finito il il progetto però ti dico anche anche là siamo stati un po' obbligati cioè sono stati obbligati un po' a ridurre le cose perché in realtà anche dal punto di vista del del gameplay c'erano molte cose che erano state pensate che non sono state prodotte a causa dei limiti così per cui alla fine nell'ultimo mese e mezzo due mesi ci sono stati tantissimi tagli molte riduzioni eccetera per cercare appunto di rimanere con un gioco compatto e che riuscisse a uscire alle date previste insomma quindi io in pratica ho veramente lavorato solamente sull'animazione di personaggi e diciamo che Paul ha disegnato tutto lui da solo ha fatto tutto un lavoro in mezzo sì sì infatti è stato incredibile e quindi io recuperavo i personaggi che erano più o meno fatti e ogni tanto magari c'era qualche cosa da aggiungere tipo qualche personaggio secondario qualche qualche oggetto qualche posizione differente dei personaggi così e però il tutto in maniera molto limitata insomma che era proprio l'obiettivo del gioco è di rimanere diciamo abbastanza dei limiti dal punto di vista stilistico per cercare di concentrarsi un po' di più sul gioco e sull'emozione insomma e quindi poi alla fine i personaggi diciamo sono rimasti tutti tre quarti nessuno nessuno si muove veramente che è un diciamo un esercizio stilistico per me animatore interessante però abbastanza difficile nel senso che eravamo molto limitati per cui dal punto di vista dell'animazione uno deve cercare di trovare delle soluzioni efficaci con pochi mezzi tecnici insomma e quindi è una scuola una buona scuola interessante un'altra cosa molto bella del gioco è la musica sì e mi immagino che ci sia ci sarà stato il bisogno anche di coordinare l'animazione con determinate musiche come ti sei trovato no diciamo che dal punto di vista dei tempi la musica idealmente avrebbe dovuto essere fatta prima in modo tale da darci una base in realtà c'era qualche base era stata fatta però molto si è fatto in concomitanza anche alla fine insomma diciamo che adesso non so se tutti i videogiochi funzionano così essendo questo la mia unica esperienza però diciamo che nel per quanto riguarda l'animazione di disegni animati di lungometraggi di animazione la la colonna sonora ed i voci sono tutte registrate prima per cui sì un animatore la maggior parte del tempo riceve già le voci registrate degli attori e molto spesso ci stanno anche delle musiche che se non sono proprio le musiche definitive sono almeno delle musiche temporanee che ti danno un'idea un po' del ritmo e il discorso di averci una voce di un attore è già un aiuto nel senso che l'attore interpreta già il personaggio per cui noi ci possiamo basare sul suo ritmo e anche sulle sue diciamo la sua interpretazione di attore per cercare di trovare una una performance d'attore del personaggio stesso insomma in questo caso invece per questo videogioco qua il discorso invece non è andato così nel senso che è stato più o meno fatto in concomitanza oppure post prodotto più più adattati loro alle animazioni essendo stata molto frenetica la fine del progetto ci siamo dovuti adattare gli uni gli altri a fare il meglio con quello che c'era un po' tempo impossibile hai un elemento un personaggio che ti è rimasto nel cuore qualcosa che ti è piaciuto molto sì mi sono divertito abbastanza a fare il generale austriaco quello che si fa il barone con dors esattamente bravo è veramente bello è divertente è sempre lì che brontola che urla che sbraccia gesticola molto per cui dal punto di vista dell'animazione ti permette di fare abbastanza cose c'hai abbastanza margini di manorra insomma essendo poi questi tutti questi personaggi di silhouette più i movimenti sono ampi è più semplice far passare un messaggio l'animazione più sottile è complicato e poi mi hanno dato pure qualche effetto speciale da fare così provare pure quello era divertente però quella è tutta un'altra specialità che io conosco poco è interessante perché mi ha dato la possibilità di provare però per farla seriamente ci sarebbe avuto più tempo e più competenze sì anche se poi ti dico l'altro animatore che è venuto poi dopo lui aveva fatto gli effetti speciali di come si chiama Rayman no Legend sì quello precedente sì e quindi lui ha diciamo la doppia etichetta effetti speciali e animazione in ogni caso sono equip che sono abbastanza compartimentate più i progetti sono grandi e più la cosa è compartimentata diciamo Variant Alpha era un progetto relativamente piccolo per cui c'era più o meno qualche possibilità più possibilità di scambio insomma però globalmente una volta che ti chiamano come animatore fai un'idea di animazione chiudo con un'ultima domanda poi dopo si lascio e questo è il tuo primo gioco hai altre hai in mente di ributtarti nel nel mondo del del videogioco sinceramente sì sinceramente mi piacerebbe mi piacerebbe anche da una parte conoscere altri altre specializzazioni all'interno del videogioco essendo io anche illustratore alla base mi piacerebbe provare un po' a fare dei concept oppure fare qualche creazione di personaggio o anche qualche storia mi piacerebbe affrontare la parte grafica del come illustratore sì sì se mi capita poi bisogna vedere se ci stanno le opportunità e poi sinceramente mi piacerebbe vedere se effettivamente ci fosse la possibilità di fare qualche cosetta per conto mio essendo essendoci effettivamente queste possibilità attualmente di sviluppare a piccole equip qualche qualche gioco diciamo a scala ridotta insomma mi piacerebbe se ci riuscissi il problema è di vedere poi i tempi i finanziamenti eccetera i problemi classici di tutti sinceramente è un'esperienza che mi è piaciuta molto e se potessi la rifarei volentieri anche perché ti dico mi sembra che attualmente ci siano a parte che sia un settore molto creativo e poi ci siano molte approcci differenti anche dal punto di vista grafico dei videogiochi e molti li trovo stimolanti e interessanti e questo mi attira molto insomma diciamo la la differente la differente creatività su tutti questi progetti specialmente i progetti indipendenti li trovo molto molto maturi nel senso che molti progetti abbastanza cartoon abbastanza grafici eccetera sinceramente mi piacciono molto e sono un modo anche per me per ritrovare un po' le radici della mia passione insomma un modo di combinare insomma differenti aspetti differenti passioni adesso vediamo quello che succederà nel futuro adesso sembra che i soft siano un po' sulla riflessione nel senso che stanno pensando che cosa faranno va bene io ti lascio la tua vita ti ringrazio sei stato gentilissimo niente sicura di figura prossimamente vediamo su questi schermi ciao grazie a tutti Grazie a tutti